signori oggi parliamo di black meat wukong il gioco che ha fatto scalpore nel senso sia positivo che negativo di quest'estate del 2024 ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social ragazzi mi raccomando usufruite del link in descrizione per avere l'ottanta per cento di sconto su instant gaming ragazzi mi raccomando signori parliamo di questo black meat wukong allora black meat wukong è un gioco bello ok graficamente è una roba fazzesca si può dire che sarà la rivoluzione per quanto riguarda il mondo videoludico per una specifica categoria che riguarda i souls like quindi diciamo che è molto molto performante più che altro c'è una brutta notizia ovvero che non è ancora uscito per xbox serie s per il semplice fatto per una questione di porting o roba del genere quindi dovremmo aspettare ancora un po perché io sinceramente preferisco di più giocarlo su xbox che su playstation sento che su xbox è più performante rispetto su playstation però comunque diciamo che la grafica su playstation non è pressoché deludente anzi è molto 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 bello un futuro di questo lo vorrei provare è molto bello la storia è molto interessante e per quanto riguarda le cose negative invece piccato sono all'esterna del gioco perché alcuni si sono lamentati che non c'è troppa accessibilità al gioco quindi se volete andare a vedere tutte le critiche cercatevele su google perché diciamo che sono ardi poco ridicole ecco però fatto sta che è un bel gioco io credo con assoluta certezza che potrebbe e ripeto potrebbe vincere i game awards del 2024 quindi a mani basse quindi va bene ci sta e niente poi poi l'ho detto in futuro potassi che lo giocherò voglio darci pur io vorrei pure io metterci le mani sopra ecco quindi diciamo che vabbè questa era la mia su black me to non è una recensione diciamo un mio pensiero una mia prima impressione su questo gioco quindi direi che ci sta è un bel gioco e come ho detto spero di provarlo in futuro come nel del ring ecco però in del ring diciamo che l'ho mollato dopo 30 40 minuti perché non mi piaceva sinceramente invece black me to wong voglio dargli una possibilità perché diciamo che potrebbe piacermi ecco già che la mitologia cinese è un po più approfondita rispetto a quella greca o addirittura non rena quindi va bene non voglio insultare nessun altro video gioco però vabbè signori grazie mille per aver visto questo video vi ricordo come sono di seguirmi su tutti i canali social link e descrizione per lo superiore dall 80 per cento di sconto su instant gaming ragazzi approfittatevene perché su steam alla modica cifra di 44 euro se non mi sbaglio potete prendere black me to wong per steam quindi perché no diciamo e niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti